229 nuovi casi di covid in Abruzzo su 2284 test processati, il che significa che il 10% dei tamponi delle ultime 24 ore ha dato esito positivo. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 10 mesi e 94 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1265, d'età compresa tra 41 e 86 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo. Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 232 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 11.317 positivi accertati, meno 14 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 478 pazienti, più 15 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 36, meno 3 rispetto a ieri con un nuovo ricovero in terapia intensiva. Mentre gli altri 10.803, meno 26 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.